Siamo con il dottor Fabrizio Pini, presidente provinciale della CEA di Viterbo, sempre nell'ambito del convegno sulla corilicoltura qui a Caprarola. Presidente, il ruolo della formazione nel settore agricolo anche in questo campo? Beh, è fondamentale. Noi come Confederazione Italiana Agricoltori di Viterbo abbiamo creduto molto in questo. Infatti abbiamo subito aderito come partner al Foragri, perché secondo noi la formazione è fondamentale, ma soprattutto anche in formazione. Gli agricoltori sono disposti e disponibili a fare questo, soprattutto perché vedi i cambiamenti climatici, vedi la sostenibilità ambientale, portano a una formazione e informazione nel settore. Dal punto di vista degli associati, la richiesta nel settore corilicolo sicuramente sarà importante, è una battuta pure sui cambiamenti climatici che stanno poi condizionando anche l'attività? Beh, sicuramente la richiesta da parte dei nostri associati c'è, è evidente, perché altrimenti non avremmo partecipato a questo progetto. Abbiamo ottenuto qualche centinaio di migliaio di euro proprio per fare formazione e saranno destinati soprattutto all'azienda agricole. Dopodiché, sì, i cambiamenti climatici ormai sono alla portata di tutti i giorni. E noi come corilicoltori dobbiamo fare molta attenzione e dobbiamo adeguare i nostri modi di coltivare soprattutto a questo, ai cambiamenti climatici. Grazie.